Gentili telespettatori, buona giornata. Un rapporto dell'Inps dice quale sono le pensioni medie in Italia, cioè la media. La media è 1140 euro. Per le donne l'assegno è più basso. Eh sì, l'assegno è il paese in cui l'assegno medio è poco superiore a 1100 euro. L'Italia spende ormai il 16,5% del PIL, prodotto interno lordo, la produzione di ricchezza, per pagare le pensioni, tra quelle di vecchiaia, quelle di reversibilità. E da qui al 2040 l'esborso sarà molto più alto. Quanto costano le pensioni ogni anno allo Stato? Costano 322 miliardi. Con un incremento nel 2022 di poco inferiore al 3% rispetto al 2021. Grazie a tutti e arrivederci a presto.